La spinta all'ammodernamento delle infrastrutture è data dagli scopi militari. L'Unione Europea, con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ha stanziato oltre 24 miliardi di euro per il Military Mobility Initiative, un piano per ottimizzare lo spostamento delle truppe tra gli stati dell'Unione tramite il potenziamento delle linee ferroviarie. Attualmente, infatti, lo spostamento di mezzi militari e soldati, che sia via terra, via cielo, via mare, è rallentato dalle procedure burocratiche necessarie a varcare le frontiere. Una parte dei 24 miliardi sarà avvolta al potenziamento della tratta all'Aquila-Sulmona-Pescara. Potenziare questa tratta non significa solo adeguarla agli scopi militari, commenta il vicepresidente vicario del Consiglio regionale abruzzese Roberto Sant'Angelo, ma permetterebbe all'Abruzzo di portare a termine un lavoro di riammodernamento che i cittadini aspettano da molto tempo. Da un lato, infatti, continua Sant'Angelo, potremmo allinearci con i nostri alleati europei in termini di difesa, mentre dall'altro potremmo soddisfare le esigenze di trasporto civile. Obiettivo, insomma, quello di ottenere ripercussioni positive anche riguardo scopi commerciali ed economici, mentre ad oggi il trasporto merci su ferro non è vantaggioso. Per i tecnici il completamento dei lavori per la tratta complessiva, Pescara-Sulmona-L'Aquila-Rieti-Terni, richiederà all'incirca 10 anni. I confini tra le diverse nazioni diventeranno quindi più labili per merci militari, così da facilitare la logistica se questi dovessero spostarsi in caso di necessità, come per disastri naturali o anche per il trasporto vaccini in caso di una nuova pandemia, oppure in preparazione delle prossime guerre.